ciao a tutti questo è il podcast di pagella politica io sono tommaso canetta e io sono carlo canepa in questa puntata ci occupiamo per prima cosa di alcune affermazioni che ha fatto il presidente del consiglio giuseppe conte presentando il nuovo dpcm oramai famosi decreti della presidenza del consiglio nuovo dpcm che riguarda le nuove misure previste per contenere la pandemia in particolare ascolteremo quello che conte ha detto domenica 18 in conferenza stampa e successivamente mercoledì 21 in audizione in senato come vedremo sugli stessi argomenti il presidente del consiglio ha in diversi casi diciamo aggiustato il tiro alcune cose che domenica erano state dette in modo errato impreciso mercoledì sono state dette in modo corretto forse perché diciamo forse ci piace credere che conte o il suo staff hanno letto il nostro fact checking sulle dichiarazioni di domenica e quindi per mercoledì hanno avuto tempo di aggiustare il tiro non lo sappiamo ma ci piace crederlo in ogni caso partiamo dalla prima affermazione che mette a confronto la situazione economica dell'italia con quella degli altri grandi paesi europei ascoltiamo conte domenica 18 peraltro il terzo trimestre che si è appena concluso segnala una ripresa vigorosa a beneficio del nostro paese migliore di quella francese tedesca spagnola ecco carlo questa affermazione come abbiamo scritto è sbagliata spiegaci brevemente il perché allora per prima cosa dobbiamo sottolineare che la diffusione dei dati sull'andamento del pil nel terzo trimestre a livello europeo quindi per il periodo che comprende luglio agosto e settembre di quest'anno è prevista con numeri provvisori per il prossimo 13 novembre con numeri definitivi entro entro i primi giorni di dicembre non è chiaro quindi dove conte prenda questi dati molto probabilmente sono sono frutto di stime all'interno per esempio del del ministero dell'economia delle finanze per quanto riguarda invece i dati che abbiamo noi a disposizione sappiamo che all'interno della nadef che la notte di aggiornamento al documento di economia finanza c'è una previsione piuttosto generica in cui appunto si dice che le previsioni per i prossimi mesi per l'aura euro evidenzano un deciso rimbalzo congiunturale del pil nel terzo trimestre cui seguirebbe una fase di crescita moderata in questo quadro l'economia italiana ha mostrato delle peculiarità che potrebbero indicare una ripresa più incisiva rispetto ai principali paesi europei siamo quindi di fronte a una dichiarazione meno netta rispetto a quella portata avanti da conte anche perché oltre a questa previsione generica della nadef ci sono delle previsioni più specifiche sull'andamento del pil nel terzo trimestre del 2020 pubblicate alle banche centrali dei principali paesi europei che in un certo senso smentiscono in parte quello che ha detto conte la banca d'italia ha infatti previsto una crescita del pil nel terzo trimestre in italia del 2020 pari al 12 per cento ma la banca centrale francese ha previsto il 16 per cento in più per la francia e quella spagnola tra il 13 e il 16,6 per cento qui le stime cambiano a seconda di quando saranno dure le misure prese per contrastare la crescita dell'epidemia di coronavirus nel paese iberico siamo quindi di fronte in parte a numeri superiori a quelli italiani per quanto riguarda la germania infine non abbiamo previsioni della banca centrale ma secondo diversi centri di analisi rimbalzo del pil nel terzo trimestre dovrebbe aggirarsi intorno al 6 7 per cento quindi meno dell'italia dobbiamo comunque considerare che ogni paese ha le sue peculiarità prendiamo in questo caso quello dell'economia tedesca che nel secondo trimestre era calata meno tra i grandi paesi europei quindi il rimbalzo del pil nel terzo trimestre rispetto al secondo in base alle aspettative era già di partenza più più contenuto tra l'altro anche l'italia nel secondo trimestre aveva avuto un calo del pil si peggiore della germania ma non grave come quello di francia spagna e regno unito e a proposito di secondo trimestre andiamo a sentire adesso che cosa ha detto conte sullo stesso argomento mercoledì in audizione al senato la nostra economia sta dimostrando un'elevata resilienza come dimostrano sia la caduta del pil nel secondo trimestre che è più contenuta rispetto a quella di molti altri partner europei sia gli indicatori economici relativi al terzo trimestre che si prospettano decisamente positivi come abbiamo appena sentito conte cambia un po le sue parole e questa volta dice una cosa corretta come ha ricordato carlo infatti nel secondo trimestre 2020 il pil italiano è sceso meno di quello di francia spagna e regno unito e come si legge nella nadef è vero che abbiamo alcuni buoni indicatori per il terzo trimestre ma veniamo ora alla seconda affermazione di conte della conferenza stampa di domenica 18 ottobre che riguarda l'aumento del personale sanitario e dei posti in terapia intensiva ascoltiamolo abbiamo aumentato il personale sanitario di 34 mila unità abbiamo più che raddoppiato i posti in terapia intensiva subintensiva ecco carlo questa diciamo che per noi sarebbe probabilmente un'affermazione da nì spiegaci un po il perché allora se i numeri indicati da conte sono corretti ma il punto è che non sono cose che sono già state realizzate quindi è scorretto e forviante dire che hanno aumentato hanno raddoppiato per ora è solo stato previsto questo momento dei medici assunti con gli stanziamenti messi nella legge di bilancio per il 2021 come è stata presentata dal governo ma questa questa legge ovviamente ancora da approvare e anche questo aumento dei posti letti che era già stato deciso con il decreto rilancio del lo scorso 19 maggio ancora non si è concluso a causa di alcuni ritardi soprattutto legati ai piani di implementazione degli aumenti nelle varie regioni d'Italia insomma conte domenica dava per acquisiti dei risultati che invece ancora non lo sono sentiamo adesso come affrontato la questione il mercoledì successivo in senato i nostri piani prevedono il raddoppio dei posti in terapia intensiva e subintensiva il personale sanitario è stato aumentato di 34 mila unità ecco diciamo che sull'aumento di personale sanitario di 34 mila unità conte di nuovo uso l'espressione è stato aumentato che è imprecisa come abbiamo detto ma sui posti letto riconosce che il raddoppio è nei piani del governo e ancora non nella realtà concludiamo poi questo spezzone con altre due affermazioni di conte dette domenica in conferenza stampa la prima sulla distribuzione gratuita di mascherine a scuola e la seconda sul messe visto che abbiamo una puntata molto densa di contenuti di queste non vi facciamo sentire l'audio anche perché quella sulle mascherine è stata detta in maniera pressoché identica domenica e mercoledì e quella sul mess è stata detta invece solo domenica vai carlo allora sì sulle mascherine e conte dice in entrambi l'occasione che l'italia è tra i pochi paesi il mondo a distribuire ogni giorno una mascherina gratis per ogni studente nelle scuole noi qualche giorno fa avevamo verificato questa questa affermazione fatta all'epoca dalla ministra di istruzione lucia azzolina chiedendo l'aiuto dei nostri colleghi fact checker nei grandi paesi europei e di altri paesi il quadro che era emerso era abbastanza chiaro ossia che da un lato è vero l'italia è l'unico tra i grandi paesi europei a distribuire almeno nell'intenzione di creazione del governo una mascherina gratuita al giorno per studenti e docenti nelle scuole ma anche la grecia faceva una cosa fa una cosa simile c'è anche da dire che negli altri grandi paesi europei e in alcuni contesti locali si pensi alle comunità autonome spagnole o in alcuni dipartimenti francesi sono stati presi dei provvedimenti per esempio per distribuire mascherine alle famiglie più indigenti e che hanno figli che vanno a scuola ma possiamo dire che non c'è stata una distribuzione generale è vero comunque che l'italia è il paese europeo insieme ad alcune comunità autonome spagnole che ha le regole più più stringenti sull'utilizzo delle mascherine a scuola infatti dai sei anni in su è obbligatoria in classe può essere solo tolta se viene rispettato il metro di distanza per quanto riguarda il messi invece conta ha fatto una gran confusione il succo delle sue parole comunque che al momento secondo lui non converrebbe prendere i circa 35 36 miliardi di aiuti del pandemic crisis support perché questo creerebbe nuovo deficit per il nostro paese che poi andrebbe ripagato con tagli alla spesa aumenti di tasse il punto è che la stessa cosa varrebbe se questi soldi il governo li dovesse recuperare emettendo titoli di stato e quindi andando ad aumentare il debito pubblico italiano non entriamo nei dettagli ovviamente la polemica su cui abbiamo scritto più volte negli ultimi mesi riguarda appunto da un lato la convenienza economica del mess che permetterebbe di raccogliere questi soldi a tasse di interesse inferiori rispetto a quelli che l'italia ha nel finanziarsi sui mercati anche se questi ultimi mesi sono notevolmente scesi dall'altro lato c'è tutta la questione molto dibattuta sulle condizionalità e sul cosiddetto effetto stigma ma per approfondire la questione vi invitiamo a andare a leggere tutte le nostre analisi sul sul tema che trovate come sempre su www.bagiallapolitica.it passiamo ora al secondo argomento della puntata e ascoltiamo quindi le parole della ministra De Micheli sul rischio di contagio sui mezzi di trasporto il più autorevole di questi studi dice che tutti i sistemi di trasporto del mondo quindi aerei navi bus treni a lunga percorrenza treni a corta percorrenza tutti i mezzi di trasporto hanno dato ad oggi un contributo pari all'1,2 per cento del contagio quindi bassissimo. Allora Carlo abbiamo in realtà scoperto che questo autorevole studio non esiste raccontaci un po' come stanno le cose. Sì come prima cosa abbiamo più volte contattato il ministero delle infrastrutture dei trasporti per avere la fonte precisa di questo dato ossia che circa un caso di contagio su cento sarebbe collegabile a una qualche forma di mezzo di trasporto non abbiamo ricevuto risposta abbiamo fatto un'ampia ricerca all'interno dell'elettoratura scientifica e di questo studio non sembra esserci traccia però come sempre quando succede che una dichiarazione di un politico risulta essere particolare e strana abbiamo trovato comunque un gancio ossia un numero che appunto questa percentuale dell'1,2 per cento che è stata citata nell'ultima settimana da un paio di articoli sia di Sky News UK quindi il Regno Unito sia dal Corriere della Sera ma questa percentuale fa riferimento a un dato molto molto preciso e non in sostanza a quello a quello che sostiene Micheli infatti questo 1,2 per cento sarebbero sarebbe la percentuale di focolai che sul tale focolai registrati in Francia il 28 settembre riconducibili a tre specifici mezzi di trasporto il treno la nave e l'aereo quindi qui ad esempio non si parla neppure degli output stiamo parlando comunque di un dato a molto molto specifico perché è di un solo paese della Francia e b sono le stesse autorità francesi a invitare la cautela nel leggere questi dati perché sono sicuramente una sottostima dei casi reali la letteratura scientifica ad oggi sono pochi studi ovviamente ancora che permettono di capire come possa diffondersi il contagio sul mezzo di trasporto rispettando anche misure di cautela come indossare la mascherina e alcuni studi però iniziano iniziano a mostrare come se si rispettano le precauzioni indossare la mascherina sanificare i mezzi far sì che la reazione sia sia corretta i rischi di contagio sono minimi ma non sono ma non sono del tutto assenti quindi il governo legittimamente può invitare alla cautela e a dire che le misure che sono state prese in accordo con il comitato tecnico scientifico ridurrebbero almeno il rischio di contagio dall'altro l'altro non è lecito che utilizza delle delle statistiche che poi non trovano un riscontro concreto nella letteratura scientifica che viene citata chiarissimo quindi insomma questo studio autorevole di fatto non esiste era una cosa molto più specifica riferita alla francia in compenso per fortuna sembra che soprattutto rispettando le norme appunto di condotta di indossare la mascherina avere le mani sempre pulite eccetera i rischi anche sui mezzi di trasporto possono fortunatamente essere abbastanza contenuti andiamo allora a concludere il nostro spezzone di fact checking con due affermazioni diciamo curiose dei leader dei partiti di opposizione matteo salvini e giorgia meloni salvini ha detto che l'unione europea ci impone la carne senza carne e giorgia meloni ha invece detto che la francia ha spostato i confini di stato rubandoci di fatto la vetta del monte bianco carlo rapidamente perché queste due affermazioni sono sbagliate allora sì partiamo dalla dichiarazione di salvini che è stata ripresa anche da moltissimi esponenti della lega negli ultimi giorni quando lì della lega parla di carne senza carne o carne in laboratorio non fa riferimento alle ricerche di cui abbiamo sentito parlare negli ultimi anni ossia del tentativo di riprodurre in laboratorio appunto bistecche salsicce hamburger partendo da cellule animali ma evitando di utilizzare per esempio gli allevamenti intensivi ma fa riferimento alla carne prodotta con ingredienti vegetali pensiamo al successo che hanno ottenuto negli ultimi anni gli hamburger vegetariani o le salsicce vegane perché salvini sostiene questa cosa sull'unione europea perché in questi proprio in questione in cui stiamo registrando il podcast il parlamento europeo sta decidendo come modificare un regolamento che tra le altre cose si occupa appunto di alcune regole che riguardano la commercializzazione dei prodotti per esempio legati all'industria della carne nel 2019 la commissione agricoltura aveva proposto di introdurre un emendamento a questo regolamento e far sì che fosse vietata la possibilità di chiamare gli hamburger vegetariani o le bistecche vegane hamburger e bistecche sostenendo che questa espressione fosse diciamo forviante per i consumatori durante la discussione nel parlamento europeo sembra essere emersa una situazione di compromesso tale per cui potrebbe essere indicata una lista di prodotti che verrebbero tirati fuori da questo divieto ma al di là di come andrà il voto è evidente che non c'è nessun tentativo da parte dell'unione europea di imporre sul mercato la commercializzazione di prodotti come gli hamburger vegetariani che già sono legali e vengono venduti ma si tratta di una questione più specifica ossia se chiamarli in un certo modo piuttosto che in un altro e per quanto invece riguarda meloni e il furto il ratto del monte bianco anche qui siamo di fronte a un'esagerazione perché il succo della questione è che è vero che c'è una contesa da decenni tra italia e francia su di chi sia la vetta nel monte bianco perché in sostanza le nostre cartine le loro da questo punto di vista non vanno tanto d'accordo possiamo dire però che al momento la vetta è sicuramente dell'italia per dire rifugio torino che si che si trova lì paga le tasse nostro paese è sicuramente in territorio italiano quello che ha scatenato le ire di melone che due comuni francesi di confine tra italia e francia nel 2019 avevano vietato l'atterraggio di parapendì sulla vetta del monte bianco includendo dunque nel provvedimento anche il territorio italiano visto che questo generazione può creare precedenti l'italia ha subito reagito attraverso le normali vie diplomatiche negando qualsiasi validità l'atto francese e anzi provendo una soluzione a questa disputa territoriale che va avanti addirittura dal 1860 in una commissione mista per la manutenzione del tracciato dei confini quindi insomma una polemica che è basata se non sul nulla davvero sul pochissimo e grazie carlo passiamo ora alla nostra rubrica di debunking dove con camilla vagnozzi oggi vi raccontiamo di due conferenze stampa quella tenuta dal presidente del consiglio giuseppe conte di nuovo e quella a cui ha partecipato il dottor pasquale bacco a fine luglio tornata direi purtroppo ad essere virale questa settimana e ricca di informazioni false ciao camilla allora come anticipato la rubrica di debunking di oggi è dedicata a due conferenze stampa protagonisti questa strana accoppiata giuseppe conte il presidente del consiglio e pasquale bacco che appunto è un medico ma diciamo soprattutto noto per aver diffuso grave disinformazione direi in materia di coronavirus ma iniziamo dal presidente del consiglio ciao tommaso allora la conferenza stampa tenuta il 18 ottobre dal presidente del consiglio conte ha attirato l'attenzione dei complottisti per un piccolo dettaglio l'orologio del premier segnava le 17 55 mentre l'evento è stato trasmesso e si è detto in diretta da numerose se non tutte le reti televisive alle 21 e 35 si è infatti trattato della prima conferenza stampa da quando i contagi da nuovo coronavirus sono tornati purtroppo a salire nel nostro paese portandoci indietro di qualche mese quando le conferenze stampa di conte sono diventate davvero in tutti i sensi eventi di portata nazionale accolti tra l'altro con grande entusiasmo ed ironia e seguito sui social tra gli altri è intervenuto sulla questione orologio di conte anche l'europarlamentaria antonio rinaldi in quota lega che su twitter ha parlato esplicitamente di una conferenza stampa registrata si tratta però tommaso e ascoltatori di una notizia falsa la conferenza stampa infatti non è stata registrata ma è stata trasmessa in diretta dopo le 21 e 30 l'orologio di conte era semplicemente fermo cosa che può accadere a tutti noi come abbiamo fatto a scoprirlo in un modo molto semplice è stato infatti sufficiente leggere l'ora riportata dal cronografo al minuto 6 26 della conferenza stampa caricata su youtube da palazzo chigi quando erano le 21 e 41 e quella del minuto 20 e 42 dello stesso video in entrambi i casi l'orologio è fermo alle ore 17 e 55 dunque nessuna conferenza stampa registrata e nessuno strano complotto alle spalle un semplice contrattempo dovuto alla batteria scarica di un orologio quindi quella stessa conferenza del 18 di cui abbiamo parlato nella sezione di fact checking mentre spingeva noi a interrogarci su ma quanto cresce il pil dell'italia rispetto a quello della germania nel terzo trimestre o quanti sono i medici veramente assunti eccetera eccetera una serie di soggetti gli faceva pensare a chissà come mai l'orologio di conte segna le 17 e 55 bene così quando si vuole vedere il complotto per forza l'altra conferenza stampa di cui ci parli è invece dicevamo tra i protagonisti il dottor Pasquale Bacco come anticipavo un medico ma noto disinformatore sul covid raccontaci un po' meglio chi è costui e di che evento si tratta allora Pasquale Mario Bacco è un medico legale iscritto dal 1999 all'albo provinciale dei medici chirurghi di Salerno nonché anche fondatore di Meleam una società del settore medico attiva in Puglia Bacco come diceva anche tu non è nuovo all'interno del panorama delle personalità appartenenti al mondo della medicina di cui abbiamo sentito l'opinione da inizio pandemia in passato infatti si è distinto per alcuni interventi mirati a negare la reale pericolosità della covid 19 e per un debole studio pubblicato sul suo sito web e rilanciato purtroppo criticamente da diversi mezzi di informazione che retrodaterebbe la comparsa del virus SARS-CoV-2 in Italia al mese di ottobre 2019 questo studio precisiamolo non è mai stato pubblicato su nessuna rivista scientifica sottoposta revisione pratica che come ormai abbiamo imparato accade invece per le pubblicazioni scientifiche che possiamo considerare ufficiali e per di più lo studio di Bacco non offre nemmeno alcun dettaglio tecnico su come sia stato condotto particolare non da poco perché lo rende di base impossibile accertarne validità o addirittura riprodurne i risultati passando al filmato il video che abbiamo analizzato e che lo vede protagonista mostra una conferenza stampa dal titolo coronavirus emergenza sanitaria o democratica trasmessa il 28 luglio dalla camera il fatto che si tratta di una conferenza stampa è un dettaglio importante perché Bacco cioè cosa vuol dire vuol dire che Bacco non è stato convocato da una commissione parlamentare in qualità di esperto come accade ad esempio nelle audizioni ma è stato soltanto invitato come ospita ad un evento evento organizzato da chi dall'onorevole Sara Cugna l'esponente politico di cui in passato abbiamo già più volte parlato dal momento che è stata protagonista di case di disinformazione del complotto a tema Bill Gates e anche anche preso parte all'evento organizzato dai no mask insomma abbiamo capito di che personaggio stiamo parlando ricordiamo nell'ultima puntata ne abbiamo parlato purtroppo di nuovo di Sara Cunial riguardo all'idea di andare in giro con un casco invece che con una mascherina perché sono più pericolosi i meteoriti che il virus della covid-19 vabbè comunque chiariti il luogo ai protagonisti passiamo ai contenuti se nella tua rubrica di debunking vuol dire che di cose vere e scientificamente corrette non ne sono state dette granché immagino esatto confermo la tua intuizione purtroppo il dottor Bacco ha infatti riportato una serie di informazioni false e cosa che al solito mi fa particolarmente arrabbiare potenzialmente se non realmente pericolose vista l'emergenza sanitaria ancora oggi in atto le abbiamo verificate e smontate una ad una pubblicando una storia su FACTA cominciamo non è vero che per covid non è morto nessuno che non avesse problematiche legate al sistema immunitario oppure a patologie pregresse come ha sostenuto Bacco si tratta di un'informazione falsa negli Stati Uniti il 6% delle vittime non aveva altre patologie e in Italia il 3,4% dei decessi era privo di patologie pregresse si tratta di un numero ridotto ma certo non è nessuno e non è corretto sostenere il contrario non ci sono farmaci che permettono una guarigione immediata dalla covid-19 eparina e idrossiloclorina non sono esenti da rischi e tra i farmaci nominati da Bacco nessuno è stato eliminato completamente dalla terapia come ha invece sostenuto secondo Bacco curando i malati covid nelle terapie intensive sono stati bruciati e utilizza proprio questo termine i loro polmoni la ventilazione meccanica è sicuramente un intervento medico serio e il rischio di danni collaterali e complicazioni è reale è però anche vero che quando si arriva ad una ventilazione meccanica invasiva vuol dire che la situazione del malato è decisamente grave e si sta purtroppo nella maggior parte dei casi lottando tra la vita e la morte della persona una terapia di questo tipo invasiva è quindi necessaria quando le altre misure di supporto respiratorio meno invasive non funzionano criticarla così duramente è veramente controproducente Per quanto riguarda il paragone con la Svezia cosa che Bacco fa alludendo al fatto che non ci sono state misure restrittive come quelle invece vissute in Italia e in tanti altri paesi dati alla mano scopriamo che la Svezia ha subito circa 590 morti per milione analoghi a 591 per milione negli Stati Uniti e a 600 in Italia ma molto superiori alle 50 per milione in Norvegia alle 108 in Danimarca e 113 in Germania possiamo quindi dire che la strategia del liberi tutti svedese non ha portato ai risultati sperati anzi è invece un'eccezione negativa in termini di mortalità rispetto ai paesi scandinavi che hanno applicato provvedimenti di contenimento della pandemia concludo dicendo che a fine luglio quando si è tenuta la conferenza stampa Bacco ha parlato della seconda ondata di Covid-19 come di qualcosa di impossibile di una barzelletta e ha usato proprio questo termine dal momento che eravamo già vicini secondo lui ad una immunità di Grecia bene, qui direi Tommaso che purtroppo l'emergenza sanitaria che oggi ci troviamo nuovamente a vivere risponde da sé a quella che è l'irrealtà di queste considerazioni mi astengo da qualsiasi commento grazie Camilla molto esaustiva la spiegazione veniamo ora alla sezione dedicata a scienza e medicina con Massimo Sandal con cui parliamo di asintomatici ciao Massimo allora oggi parliamo degli asintomatici cioè di quelle persone che pur avendo contratto il virus responsabile della Covid-19 cioè il SARS-CoV-2 non hanno sintomi come ad esempio febbre, tosse, difficoltà respiratorie e via dicendo che cosa ci racconti in proposito? dunque gli asintomatici sono un tema su cui c'è molta confusione anche perché sentiamo oggi molti personaggi sia medici che politici proclamare che oggi ci sono il 94, 96, 97% di asintomatici che è una narrazione che vorrebbe forse dire che tutto sommato il Covid-19 non è niente di grave ora è un po' difficile capire da dove vengano questi numeri perché i dati reali sono molto diversi e vanno anche un po' capiti intanto cerchiamo di capire cos'è un asintomatico che può sembrare semplice ma non lo è quando uno si infetta con il SARS-CoV-2 il coronavirus responsabile del Covid-19 non si amava subito c'è un tempo di incubazione che dura in media dai 7 agli 8 giorni in questa fase la persona non ha sintomi quindi parliamo spesso di asintomatici ma in realtà sarebbe più corretto dire che si è pre-sintomatici perché alla fine di questa fase arrivano i sintomi ed è proprio la fine di questa fase pre-sintomatica quella in cui la persona è più contagiosa per gli altri e questo già ci dice che tenere traccia di chi non ha sintomi è importante ora, oggi al tampone in realtà poco più di metà dei testati 56% secondo l'Istituto Superiore di Sanità non ha sintomi un dato che corrisponde peraltro molto bene ai dati esteri in Germania sono circa 40% in Inghilterra 50% ma molti di questi positivi ripeto, svilupperà dei sintomi in seguito esiste poi effettivamente un 20% di contagiati che non sviluppa mai sintomi e questi sono i veri asintomatici però questa è una cosa che uno può sapere solo a posteriori quando è passato tutto il decorso dell'infezione e risulta nuovamente negativo al test, al tampone non è una cosa che posso sapere a priori di essere asintomatico o di essere pre-sintomatico e questo è importante perché mentre non è ancora chiaro se gli asintomatici veri e propri cioè quelli che non sviluppano mai sintomi se questi asintomatici siano veramente molto infettivi è invece molto chiaro che i pre-sintomatici siano tra i principali veicoli del contagio dell'infezione e quindi mi preoccupa un po' quando sento parlare ad esempio di carica virale ridotta la carica virale intanto quando viene misurata è praticamente identica nei pre-sintomatici e negli asintomatici ma siccome noi non sappiamo se siamo asintomatici ma non sappiamo se svilupperemo dei sintomi in seguito non possiamo considerare una persona asintomatica sana ma o poco pericolosa è una persona che deve sempre considerarsi infettiva e sempre a rischio di sviluppare dei sintomi e chiudo qua con una osservazione che purtroppo pochi sanno asintomatico non vuol dire sano spesso anche questo si sente dire che questi asintomatici sono in pratica dei portatori sani del virus può sembrare contraddittorio ma oggi in realtà sappiamo purtroppo che gli asintomatici sono in qualche modo malati anche se non hanno sintomi questo perché il virus del covid-19 il SARS-CoV-2 può causare danni occulti a cuore e pulmoni che non danno sintomi ma che si vedono nel momento in cui uno fa dei raggi che uno fa degli esami specifici e solo danni che si sospetta ancora ovviamente non si può sapere potrebbero avere conseguenze più avanti nel tempo anche se oggi non danno sintomi quindi purtroppo dobbiamo sempre ricordare che questo virus è subdolo non dobbiamo stare tranquilli neanche nel momento in cui non ci dà sintomi apparenti Grazie Massimo davvero importante non abbassare la guardia e non cedere alla tentazione peraltro umanamente comprensibilissima di fidarsi di certe narrazioni tranquillizzanti sul fatto che ma sì tanto il 95% è asintomatico come ci hai spiegato perfettamente a parte che essere asintomatici non è una garanzia di stare bene oggi e soprattutto in futuro e poi questa percentuale è completamente sballata grazie ancora Pagella Politica è un progetto di fact-checking attivo dal 2012 collaboriamo con Rai2, l'agenzia di stampa AGI e Facebook seguiteci sul nostro sito www.pagellapolitica.it e sui nostri canali social Twitter, Facebook e Instagram per non perdervi le prossime puntate iscrivetevi al canale di Pagella Politica su qualsiasi piattaforma usiate per ascoltare podcast il podcast di Pagella Politica è stato scritto questa settimana da Tommaso Canetta, Camilla Vagnozzi e Massimo Sandal ed è prodotto da Jessica Mariana Masucci ha collaborato Carlo Canepa io sono Tommaso Canetta e questo era il podcast di Pagella Politica e questo era il podcast di Pagella Politica